Buon venerdì 12 maggio. La riflessione di questa mattina è stata pre-registrata, come già ho annunciato all'inizio del mese. Ci saranno dei giorni in cui non sarò a casa e pertanto è piuttosto difficoltoso registrare e mandare in diretta al mattino stesso, perché si potrebbero non trovare connessioni sufficienti, ma queste sono ragioni di natura tecnica. Comunque resta la freschezza di una riflessione che riguarda questo giorno, perché oggi 12 maggio, venerdì, inizia il congresso di ecologia sociale antropo-spirituale, una occasione importantissima nel movimento dei club, voluta dal professor Udani e dal padre Danilo Salesze, e che rappresenta un aspetto sostanzialmente ecumenico del movimento dei club. C'è un incontro nella diversità, molto lontano dalle logiche dei congressi associativi che inevitabilmente, c'è in questo mio dire una critica, inevitabilmente rappresentano anche momenti di lotta di potere, sì perché la fragilità umana, la nostra incompiutezza, è fatta anche di queste cose. Si incontrano le associazioni, ogni tanto si elegge un presidente e lì nascono inevitabilmente quelle che ho definito e sono state, sono stato criticato per questa definizione, le cordate, nulla di scandaloso. In tutte le forme associative ci sono opinioni, pareri diversi e naturalmente ognuno tenderebbe a imporre la propria. È inimmaginabile che ci sia una omogeneità assoluta che porti a una proclamazione di un presidente. Ci saranno correnti diverse. Chi afferma che anche in politica sia necessario abolire le correnti fa un'operazione illusoria che rischia poi tra l'altro un venir meno della democrazia interna, dei partiti, delle forme associative. Il partito in fondo altro non è se non un'associazione privata di cittadini che agiscono, almeno nelle dichiarazioni per il bene comune, ma rappresentano una parte dell'insieme. E per questa ragione a mio parere che Vladimir Rudolin volle un congresso fuori dalle fisiologiche, lotte di potere che caratterizzano le forme associative, anche quando si dichiarano intrise di una visione ecosistemica. Certo, la prospettiva e la visione ecosistemica dovrebbe sostanzialmente liberarci da qualsiasi tendenza al controllo al potere, ma noi siamo esseri umani. Giustamente Vladimir Rudolin coniugò il termine ecologia sociale antropo-spirituale, consapevole che c'è una parzialità di visione da parte dell'essere umano nei confronti del rapporto con il creato. Ed è una visione che soffre di una dimensione autoreferenziale, rispetto alla quale dobbiamo fare qualche passo in avanti, convertirci, cambiare visione. E questo cambiamento di visione non sarà mai definitivo, sarà sempre una tensione verso esattamente come la sobrietà. Tra molte tentazioni egemoniche, egocentriche, ecco perché la bellezza di Assisi è anche il luogo che non cambia Assisi fin dall'inizio di questo congresso. Perché Assisi rappresenta il luogo di Francesco che 800 anni fa formulò la testimonianza di un rinnovamento all'interno della Chiesa, ma quel messaggio non si rivolgeva semplicemente al cristianesimo. Ricade inevitabilmente sull'intera umanità. A 800 anni da quell'evento Papa Francesco assume il nome appunto di Francesco per riprendere le file di un discorso smarrito. E nella laudato si e fratelli tutti ripropone ancora una volta all'intera umanità, non solo ai cattolici, all'intera umanità, la necessità di porre mano al nostro modo di vivere. Ebbene quest'anno Assisi significa anche affrontare uno dei temi lasciati risolti da Vladimir Utoli, la consegna di approfondire sul piano teorico e pratico il concetto di etica. Che cosa significa etica? Molto spesso noi confondiamo etica e morale. Certo le morali ci sono, ma sono radicalmente diverse tra una cultura e l'altra, tra l'appartenenza a una visione e all'appartenenza a un'altra visione. Costruiamo morali, cioè degli ordini di riferimento rispetto ai quali noi definiamo normalità e devianza. L'etica è invece nella consapevolezza di porre costantemente il nostro comportamento al pensiero critico, il quale devi soprattutto verificare quanto del nostro agire ricada sul prossimo e quanto del dovuto nei confronti del prossimo trovi riscontro nel nostro comportamento. Sì, il dovuto nei confronti dell'altro. Che cos'è questo dovuto nei confronti dell'altro? La disponibilità. Dispogliarci progressivamente rispetto al nostro egocentrismo che mina le nostre relazioni affettive, le nostre relazioni tra una generazione e l'altra. Pensiamo all'egoismo che la generazione che va verso la vecchiaia spesso esprime nei confronti delle generazioni che vengono dopo, le generazioni, chiamiamo le cure dei figli, che si aprono al futuro. Noi esseri umani siamo tentati a conservare, non a evolvere, a trattenere piuttosto che a dare, a riempirci piuttosto che svuotarci. E quel dovuto è proprio l'opera di svuotamento che ciascuno è chiamato a fare relativamente alla possibilità che le generazioni che verranno dopo possano essere messe nelle condizioni di vivere il più possibilmente sereni. La serenità, la gioia, la bellezza, l'armonia, il rispetto della natura. E infatti il titolo del congresso di quest'anno è Etica della responsabilità e della condivisione. Guardate che il termine responsabilità non coincide necessariamente con colpa, in quelle forme vittime e colpevoli. No, responsabilità è saper rispondere con piena coscienza e con libertà alle domande che incontriamo nel corso della nostra esistenza. Una delle domande che possiamo incontrare potrebbe anche essere l'incontro con una persona che esprime problematiche alcol correlate. Quella è una domanda, non l'uovo del giudizio, nel quale magari noi ci sentiamo responsabili in quanto ci riteniamo consumatori moderati di bevande alcoliche. La polemica che insorta in questi ultimi tempi relativamente alle etichette che allertano sui danni dell'alcol. Ci sono i bevitori responsabili e quelli responsabili. No, siamo tutti responsabili di tutti e ogni nostro comportamento inevitabilmente incide sugli altri. Possiamo anche abbandonare il concetto di alcolismo come malattia, considerarlo uno stile di vita. Ma se questo significa che noi distinguiamo tra stili di vita caratterizzanti i bevitori normali e stili di vita sbagliati caratterizzanti gli alcolisti, sì abbiamo eliminato il concetto di malattia ma non è cambiato un granché. Siamo sempre nella posizione giudicante. Invece la posizione difficilissima di un'etica della responsabilità è quella caratterizzata da una risposta che dobbiamo dare rispetto a un comportamento, il consumo di bevande alcoliche che è tollerato, promosso e tutto sommato piuttosto banale, però dentro a quel comportamento si nasconde tanta ipocrisia, tanta falsità, tanta presunzione di normalità, di capacità di controllo, di potere. Ecco tutto questo ci interroga umilmente nei tratti più semplici della vita umana. E allora cosa incominciamo a fare? A distinguere chi beve troppo e chi è invece un buon rigerato, addirittura lo definiamo sobrio. Ma qual è la quantità che dovrebbe caratterizzare il bere responsabile? Ebbene non c'è una quantità, perché anche un uso infinitesimale di una bevanda alcolica, bevo solo raramente in certe occasioni, rischia di rappresentare un dettaglio che ripristina immediatamente la distinzione tra morigerati e intossicati, dissipatori, cioè gli alcolisti. Ecco perché rivedere l'etica della responsabilità in un'ottica alcologica ci aiuta a comprendere fino in fondo che qualsiasi comportamento è luogo di domanda da sviluppare. È un luogo nel quale siamo chiamati a metterci in discussione radicalmente e se pretendiamo che l'alcolista smetta di bere come auspicio anche per la sua salute e consideriamo la ricaduta una sconfitta, per quale ragione? Responsabilmente non ci poniamo una domanda relativamente alla quale, anche se consumiamo raramente le bevande alcoliche, ogni volta che lo facciamo dovremmo chiederci se stiamo ricadendo o bevendo. Lo dico perché molto spesso, forse inconsapevolmente, ma fino a un certo punto, continua a persistere la distinzione tra l'interessato e i familiari, gli alcolisti e i familiari, anche laddove non usiamo più il termine alcolista, non usiamo più il termine trattamento, abbiamo chiamato i club alcologici territoriali, distinguendoli da quelli degli alcolisti in trattamento o da tanti altri di ecologie familiare, di ecologia sociale e antropospirituali, ma questi sono formalismi nominalistici che non servono a un granché. Dobbiamo semplicemente porre attenzione a una nostra radicata tendenza a sentirsi un po' meglio degli altri e questa è un'etica della irresponsabilità perché non vogliamo rispondere a domanda che attraversa la coscienza di ciascuno, anche semplicemente lo ripeto ancora e non finirò mai di ripeterlo, relativamente al banale comportamento del consumo delle bevande alcoliche, banale ma dannoso per la salute, anche forse solo quella fisica, ma poi questo incide anche sulle forme della categorizzazione, incide profondamente sulla nostra tendenza giudicante, moralista. E poi c'è l'etica nella e della condivisione, condivisione di uno stesso destino, siamo tutti sulla stessa barca, non abbiamo scialuppe di salvataggio per i naufraghi e naufraghi che sono stati travolte dalle onde del mare. No, siamo tutti sulla stessa barca, sospinti dagli stessi venti, in qualche modo anche travagliati dalle onde rischiose dell'esistenza. Siamo in qualche modo naviganti e naufraghi, nella condivisione, sia nel momento del naufragio, la ricaduta, sia nel momento di una navigazione che ci vede tutti co-protagonisti, verso rotte impensate e impensabili, ma rotte che ci invitano a avere di fronte a noi una prospettiva, una meta, che è quella dell'armonia tra la vita e la natura. Etica della condivisione significa comportamento non distinto ma condiviso, significa senso autentico della disponibilità o meno di condividere con gli altri, di far sì che anche il disagio spirituale sia un luogo nel quale rinnoviamo la nostra disponibilità al bene comune. Questa è la grande bellezza dell'insegnamento del club e dell'occasione ecumenica di Assisi, nella quale possono trovare posto allo stesso livello. Club degli alcolisti in trattamento, club alcologici territoriali, club di ecologia familiare, club di ecologia sociale antropo-spirituale, club udoli e la denominazione potrebbe essere infinita, ma c'è posto per ciascuno nella sua originalità e nella singolarità, senza obbligo di sentirsi appartenere a una sfumatura della visione piuttosto che un'altra, una migliore, una peggiore, a seconda di quella che noi pratichiamo. È il luogo del non giudizio, dell'accoglienza, della disponibilità a una crescita e maturazione nel rispetto della biodiversità. E biodiversità significa sostanzialmente essere molto attenti alla originalità costitutiva di ogni essere umano, che non lo porta a essere indipendente, ma interdipendente e contemporaneamente anche in qualche modo dipendente. Non è una patologia essere dipendenti. Non possiamo sbarazzarci del concetto di dipendenza sostituendola con il termine comportamento additivo, come ho visto fare da qualche parte, che è una analogia terminologica. Dipendenza o addiccio vuol dire esattamente la stessa cosa, essere schiavi, ma per noi il concetto di dipendenza rivisitato, Udoli voleva toglierlo perché evocava inevitabilmente un concetto sbagliato, medicalizzato e psichiatrizzato, ma anche comportamento additivo ha lo stesso significato. Dobbiamo recuperare, dopo esserci sbarazzati del termine dipendenza ascritto alla nosologia medica, riprenderla come fondamento dell'autonomia nella relazione. Si, ognuno di noi va al club da solo e insieme agli altri. Questa bellissima espressione udoliniana, semplicissima, ma che vedo si fa tanta fatica a praticare. Andare da soli per se stessi perché ognuno è chiamato a mettersi in discussione. E questa è l'etica della responsabilità della condivisione. Pensiamo bene alla nostra esperienza, a quanta fatica abbiamo fatto a metterci in discussione singolarmente e quanta fatica abbiamo fatto a essere ottemperanti di settimana in settimana relativamente alla nostra identità relazionale. Andiamo da soli, qualcuno resta a casa, qualcuno lo lasciamo a casa. Per esempio, i giovani, gli adolescenti, i bambini, tendiamo a lasciarli a casa. Ma i bambini, gli adolescenti sono parte integrante delle nostre relazioni. Vengono al club. Forse qualche volta possiamo anche trascinarli, nel rispetto della loro libertà ovviamente, ma contemporaneamente dobbiamo testimoniare nel percorso di crescita e maturazione come la nostra libertà è nella relazione, nella dipendenza reciproca. Ecco che allora l'etica della responsabilità e della condivisione non rappresenta un luogo di definizione di un nuovo moralismo, un luogo di libertà vera, nella quale non c'è spazio in alcun modo né per il giudizio né per il pregiudizio, che c'è e come va superato ovviamente, e neppure per la giustificazione. Non si può, in base al principio del non giudizio, giustificare tutto, perché l'etica ti pone una domanda che sei chiamato a sviluppare. Non è eludere o rispondere sbrigativamente, io sono responsabile, bevo moderatamente, è lui che è il responsabile. No, siamo tutti responsabili di tutti e tutti attraverso il nostro comportamento testimoniamo un modo di vivere che riflette il nostro modo di vedere e il nostro modo di vedere trova concretezza non in ciò che diciamo, ma in ciò che facciamo. Ecco che allora il congresso di Assisi rappresenta a mio parere uno degli aspetti fondamentali del percorso evolutivo delle esperienze locali, comunitarie, che fanno riferimento all'ecologia sociale antropo-spirituale, che creano sì anche forme associative, ma che dovrebbero essere in primis chiamate ad esprimere l'autonomia del club nell'appartenenza alla comunità locale. Certo, con il servizio dovuto da parte del mondo associativo, ma non necessario, è utile in qualche momento, ma non ci può essere una subordinazione del club alle logiche burocratico-associative. Quindi Assisi è luogo vero autentico di libertà, di liberazione, anche dalle logiche associative, che rimangono sempre lì molto ambivalenti, che dobbiamo rispettare, ma contemporaneamente siamo chiamati ad andare un pochino oltre, esattamente come fece Udoli, che invitò a creare le forme associative e poi incominciò a esercitare un pensiero critico nei confronti delle forme associative. E non voglio dire che ci sia una costituzione contrapposta del congresso di Assisi relativamente al congresso dell'associazione, ma è una sottolineatura voluta da Udoli di evitare quella ricaduta collettiva generata dalle lotte di potere dentro il mondo associativo, finalmente un luogo Assisi che rimane sempre quello. Ed è il congresso dell'ecologia sociale antropo-spirituale che in questi giorni affronterà il tema dell'etica della responsabilità della condivisione per formulare poi un'altra tappa che arricchisce il movimento dei club, che arricchisce le persone che partecipano con senso di responsabilità all'azione settimanale del club e dei suoi programmi educativi. È Assisi una fonte inesauribile di conoscenza condivisa e di questo ne parleremo domani. Sarà il secondo giorno di Assisi e vedete, questo ci tengo a sottolinearlo, il concetto di etica può sembrare un concetto filosofico, accessibile solo ai dotti, ai laureati? No, il concetto di etica deve essere rivisitato sulla base di una disponibilità di non presupporre mai di sapere e di non arrendersi al fatto che siamo particolarmente ignoranti. È uno stimolo per migliorare, per crescere, per maturare, all'insegna di una educazione che ha un significato liberante per ciascuno di noi e ci consegna la disponibilità di vivere in una relazione vera, ecologica, sui principi dell'amore, della solidarietà, dell'amicizia e del rispetto della diversità. Buona giornata.